I prerequisiti di questo esercizio sono saper padroneggiare una buona verticale con i polsi esattamente sotto le spalle, quindi con le mani vicine, e anche con le mani più distanti, che è poi la forma di verticale nella quale andremo ad approcciare tutto il lavoro. Chiaramente un altro esercizio come prerequisito è croc o elbow lever, senza muovere la mano di assistenza, quindi nel mio caso la sinistra. Questo che vedete adesso è un errore, per esempio. Questo che vi mostro è un altro errore di approccio a questo esercizio, sia come traiettore da seguire che come posizione del corpo. È uno dei pochi lavori di verticalismo che non si fa in straddle classica, quindi in divaricata classica, ma con il corpo leggermente inarcato. La prima cosa da capire è la direzione. Non seguiamo questa linea diagonale, infatti ci porterà a crollare sul gomito. È bene seguire una linea dritta, come se fosse una discesa di un piegamento in verticale, e poi andare verso il braccio dell'assistenza. Quindi si va in basso e poi, riallontanandosi con il viso da terra, si cerca di andare verso il braccio di assistenza. All'inizio per seguire queste regole di traiettoria sarà normale perdere i piedi, quindi non riuscire a chiudere l'esercizio, oppure sarà normalissimo all'inizio magari arrivare in basso e non tenere il ball lever, ma poi con la pratica si riusciranno sia a seguire le regole di traiettoria esatta che rimanere con i piedi in alto.